Allora, è appena finita la live della Fantasy Flight Games e niente, sono molto deluso perché non hanno fatto praticamente vedere nulla di nuovo Non hanno praticamente fatto vedere nulla di nuovo e a parte appunto hanno fatto vedere le Legacy Una carta Legacy, tra l'altro, hanno fatto vedere qua l'immagine che tra l'altro è il massimo della risoluzione che posso farvi vedere Perché l'ho presa, l'ho fatto praticamente stampo, incolla e niente, questo è il simbolo Legacy che avranno le carte Per riconoscere una carta Legacy all'interno del mazzo avranno il simbolo d'oro di fianco al numero E questa è veramente l'unica novità che hanno fatto vedere oggi Sono ancora in lutto per il trailer di Endgame, quindi sarò breve e coinciso Queste invece sono le due nuove carte che hanno fatto vedere su Twitter Che io non avendo Twitter arrivo sempre in ritardo su ste cose Però ecco, allora abbiamo una creatura non comune e selvaggi Che andrà a influire la lista delle carte in modo non indifferente Perché carte non comuni e selvaggi ce ne sono parecchie, anche forti Anche se tipo il richiamo della natura è già stato confermato che ci sarà di nuovo Poi ci sarà il Mimicrai Quindi diciamo che quelle principalmente più forti di selvaggi ci sono, delle non comuni Poi ne mancheranno certo altre, eccetera Allora abbiamo questa Pampaka Pampaka, Pampaka, cazzo è? Nanga Le creature alla destra di Pampaka, Anga Non so perché mettono la virgola Pampaka, Anga Nella linea di battaglia prendono più due L'altra carta, Pampaka, Yaga Quindi Pampaka sono tutti i micetti qua Schermaglia Le creature alla sinistra di Pampaka, Yaga Ottengono Schermaglia Carine Carte carine Nulla di così eclatante direi Mi piace tanto questa Questa mi piace veramente tantissimo Ritornano comunque, cioè riconfermano il fatto che selvaggi sarà molto puntato sulla board Prossima espansione Che qua abbiamo un boost di più due a gratis E questa Che questa signora carta Cavolo Tutte le creature alla sinistra prendono Schermaglia Mamma mia Sono due belle carte Sono due belle carte a livello di board control Devono essere contestate Devono essere contestate assolutamente Perché sono troppo forti Troppo forti Cioè Più che altro che Va bene le puoi vedere in sinergia tra loro due Ma se la metti in un contesto in cui puoi avere una qualsiasi tipo di creatura Che si piglia più due o si piglia Schermaglia è comunque buono Quindi queste qua saranno veramente carte da prendere di mira Che si entrano in board Allora 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 Grazie.